Una truffa nei confronti degli agricoltori calabresi che non ne possono più, c'è una vessazione continua, costante, gli agricoltori sono stanchi e allora c'è una ribellione generale ma il problema è che la regione se ne sta fregando altamente, addirittura ha anche provato un piano di classifica senza che il consorzio di bonifica abbia mai fatto le opere. Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari nuovamente sul piede di guerra contro i consorsi di bonifica che lo ha portato a schierarsi già da qualche tempo al fianco degli agricoltori del suo territorio, due le sentenze con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha decretato da tempo l'illegittimità dei tributi richiesti agli agricoltori di Varapodio e della Piana di Gioia Tauro dal consorzio di bonifica Tirrenico Reggino, sentenze che hanno prodotto la condanna dell'ente pubblico e della SOGET al pagamento delle spese giudiziarie. Malgrado questa condanna il consorzio sta continuando a notificare ai proprietari terrieri cartelle di pagamento di balzelli che dovrebbero pagare gli agricoltori, decisione che ha fatto infuriare il primo cittadino Fazzolari che attacca questa volta pesantemente anche la regione. Allora perché gli agricoltori sono incavolati con il consorzio di bonifica? Sono incavolati perché devono pagare un tributo senza che lo stesso abbia mai fatto le opere per cui diciamo il consorzio è nato. Questi consorzi che sono nati nel 1930, 32, 33 insomma in quel periodo lì, di fatto non hanno mai svolto la loro funzione. Nel territorio loro non hanno mai espletato i servizi per cui sono nati e allora chiedono un tributo agli agricoltori senza che ci sia a monte un servizio espletato. E allora gli agricoltori sono tutti in stato di agitazione perché si sentono fregati e giustamente vengono nei vari comuni a protestare. Allora io voglio difendere gli agricoltori del mio comune, il mio comune che rientra in questo perimetro di contribuenza. All'interno di questo il consorzio avrebbe dovuto fare dei lavori di manutenzione delle strade, di reggimentazione delle acque, di tutela del territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Bene, il consorzio di bonifica versante tirenico meridionale, questi lavori non li ha mai fatti. E allora perché ogni anno deve mandare queste bollette agli agricoltori? Perché ogni anno centinaia di bollette devono arrivare agli agricoltori del mio paese? Tu consorzio non puoi mandare di nuovo la bolletta se io ho vinto un ricorso in commissione tributaria. Quindi io sono titolare anche di un diritto reale, io ho vinto un ricorso, quindi tu non puoi continuare a mandare le bollette per le stesse cose. Quindi se lo fai vuol dire che tu consorzio in collaborazione con la SOGET, tu stai creando un'associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento dei poveri agricoltori. Quindi tu stai anche facendo estorsione. Quindi la Procura della Repubblica deve intervenire perché questi stanno facendo estorsione contro gli agricoltori. E allora sono vessati, sono assolutamente non tutelati anche da chi dovrebbe, e mi riferisco in questo caso anche a Coldiretti. Coldiretti che dovrebbe anche tutelare gli interessi degli agricoltori, invece che cosa fa? Tutela gli interessi degli amministratori dei consorzi. Quindi qui c'è tutto un insieme di fattori che non va bene. E allora il consorzio la deve smettere di mandare bollette. La Regione la deve smettere di approvare piani di classifica se i lavori non sono stati mai fatti. La Procura della Repubblica deve intervenire per pulire quei soggetti che comunque si rendono responsabili di reati penali. Ognuno deve fare la propria parte, ma sicuramente in questa filiera non può essere soccombente solo il povero agricoltore. Grazie. Grazie.